Patrick si laureava settimana scorsa con un 110 e la ode da remoto. Oggi, dopo l'ennesima udienza, Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere per diffusione di notizie false e portato via da un'aula di tribunale in maniera illegale. Patrick libero! Patrick Zaki deve diventare anche ufficialmente cittadino italiano e va perseguita ogni ricerca di soluzioni diplomatiche, di accordo, fino a che lui non torni in questo paese. È davvero la città tutta per Patrick ed è stato giusto, diciamo, quello che diceva Amnesty purtroppo negli anni, di tenere attenzione sul caso mediatico di Zaki perché troppe volte in Egitto imputato significa detenuto o condannato. Non possiamo permetterci che questo sia l'epilogo di questa vicenda, dobbiamo tenere alta l'attenzione mediatico sul caso Zaki, tentare tutte le soluzioni possibili e chiedere un intervento del governo per fare in modo che possa essere rimpatriato e che torni da zero in quella che è la sua città adesso adottiva e diffusa. Anche se questa condanna sarà irrevocabile, ma speriamo di no e non si potrà fare niente per 14 mesi per liberarlo, io credo che dovremo tornare sempre in piazza a Numera per chiedere sempre la sua libertà. E poi eravamo molto fiduciosi dopo anche la laurea, tutto il percorso che era stato fatto, che sarebbe stato liberato, prima o poi, o almeno non con un'accusa così dura e così terribile. Quindi continueremo anche per questi 14 mesi, sperando che si risolva prima, a chiedere la sua liberazione. Oggi, a nome di tutte le studentesse e di tutti gli studenti dell'università, siamo qui per dare sostegno al nostro compagno. Non ci torniamo qui, non siamo in contatto, continuiamo a chiedere che Patrice venga liberato. Vogliamo continuare a sentirlo come un amico, a continuare a parlare con lui, a vederlo attraverso la webcam e finalmente in presenza qui a Bologna. Lo spettiamo a Bologna. E noi lo spettiamo a Bologna. Grazie. 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 Grazie.